benvenuti in questo video tematico perché oggi voglio parlarvi di uno dei temi che è stato sollevato dalla gabanelli la gabanelli oggi vi invito a guardare data room ha sollevato il solito video il solito la solita inchiesta polemica sulla parte dei medici di famiglia e su alcune cose può esserci ovviamente una questione di ideologia di visione eccetera eccetera ma ma mi dà lo spunto per parlarvi di diversi punti che secondo me nella discussione che ci si sta avendo per ovviamente la parte di chi deve gestire il servizio sanitario è essenziale cioè sono stati cristallizzati sono stati pubblicati finalmente alcuni dati importanti riguardo l'organizzazione delle cure primarie quindi tutto quello che noi vorremmo poter trovare un domani vorremmo poter vedere un domani ora qual è il tema il tema è il solito tentativo di addossare ovviamente delle responsabilità del dei malfunzionamenti del sistema alla componente territoriale dei medici di famiglia e questo è un creare un facile nemico è una cosa a cui assistiamo da tanti anni è una diciamo parte che è un tentativo che hanno fatto un po tutte le forze politiche bisogna dire perché chiaramente se trovi un colpevole più semplice no se cerchi di trovare un colpevole senza mettere in discussione quelle che sono le politiche organizzative la visione la parte economica e se non vai a snocciolare i veri problemi ovviamente tutto più semplice no è colpa sua e poi alla fine non risolviamo nulla e non si fa nulla per migliorare le cose bene cosa viene detto e cosa viene fatto oggi voi sapete che da alcuni anni noi abbiamo il mantra che parte ancora credo dall'inizio del di quando ministro era la turco e quindi molti anni fa si iniziò a parlare di queste benedette case della salute case della comunità si cominciò a mettere in giro questa questa notizia che l'epidemia di cronicità non può essere gestita dal medico singolo il medico da solo no lasciato all'arrembaggio e quant'altro e questa è una cosa che è stata raccontata per molti molti anni e ovviamente guarda caso anche quando c'è stato da parlare di pnrr non c'è stato neanche un minuto di discussione pubblica non sono mai stati coinvolti professionisti non è mai stato coinvolto nessuno ma si è partiti subito con un bellissimo piano che cosa andava a finanziare queste benedette case della salute case della comunità insomma con quella visione organizzativa di una certa parte politica che fondamentalmente pare sia l'eldorado a cui tutti si devono diciamo abituare funziona non funziona sono la soluzione non sono la soluzione io personalmente credo di no e vi voglio argomentare il motivo credo di no significa che non servono del tutto o che non hanno uno spazio di manovra all'interno del servizio sanitario assolutamente no è la risposta anche qua cioè servono hanno una loro logica hanno una loro utilità le case della salute le case della comunità ma come per tutti gli strumenti dipende come vengono messi al servizio e messi al servizio di chi del cittadino del professionista del sistema sanitario ci sono della politica ci sono diverse sfaccettature da analizzare allora le case della salute case della comunità per come viene vista oggi da una certa parte politica in caso della comunità sono il nuovo punto di riferimento della popolazione vuol dire che il tentativo io lo riassumo per per semplificarlo ma è molto più complessa di così il tentativo che si fa è quello di passare da dare un riferimento fisico di una persona no come può essere il medico di medicina generale a dare un riferimento invece di struttura quindi non sei non è più mario rossi lucia bianchi il mio medico di famiglia con cui ho la fiducia ma è la casa della salute del quartiere x la casa della salute del distretto y in cui tu vai e ovviamente invece di trovare davanti una persona in carne e ossa cosa trovi trovi una porta un muro una segreteria e degli operatori che sono all'interno operatori che però non è detto che siano sempre quelli con cui tu riesci poi a sviluppare una effettiva relazione fiduciaria relazione di cura relazione di lungo periodo che è quella che si dimostra essere invece la strategia vincente se se messa questa relazione di cura nelle condizioni di erogare determinate prestazioni e di avere ovviamente un bilancio tra attività professionale e attività diciamo della vita quotidiana di ciascun professionista che consenta appunto di gestire i pazienti e di sopravvivere per i professionisti perché questo è l'altro tema grosso è l'altro tema problematico che le attuali organizzazioni non vogliono affrontare cioè il tema della gestione delle risorse umane bene il il tentativo di buttare di infilare i professionisti in maniera completamente disorganizzati in maniera completamente diciamo lasciata a sé pensando che tu prendi i professionisti li butti dentro una struttura e per magia le cose nascono per gemmazione è una cosa abbastanza fuori dalla realtà ma è quello che è stato fatto motivo per il quale la gran parte dei cittadini poi dice sì cos'è la casa della salute un poliambulatorio come li abbiamo da 50 anni ok poi l'ambulatorio in cui vado faccio il servizio faccio la prestazione in una logica prestazionale quindi non in una logica di relazione no col mio provider di cura a lungo termine strutturata vado faccio la prestazione torno a casa se oggi c'è tizio o domani c'è caio è ovvio che questo diventa un problema per cui o io strutturo la casa della salute la casa della comunità in modo tale da garantire che lì io posso avere sempre il mio dottore ma se io faccio questa cosa avrei bisogno di un quantitativo mostruoso di queste strutture con costi mostruosi insostenibili per il sistema che già oggi sappiamo non essere in una come dire pienezza di risorse economiche no da sperperare in questa roba qua cioè in muri cemento armato e strutture che di fatto poi sarebbero sottoutilizzate di tutta evidenza quindi quel progetto ha delle grosse criticità che si vuole continuare a non vedere allora come la vedo io e in questo modo parlo a questo punto a livello politico la casa della salute serve sì ma deve essere uno strumento messo al servizio della relazione di cura tra medico e paziente non deve essere la casa della comunità il riferimento per il paziente per il paziente serve un riferimento umano questo riferimento umano deve avere un numero di pazienti più basso di quelli che ha oggi deve avere delle condizioni di lavoro migliori di quelle che oggi è costretto ad avere con 1800 assistiti deve avere una retribuzione congruente adesso vediamo i dati che sono stati appunto pubblicati dalla gabanelli e a quel punto strutturare una programmazione del numero di professionisti adatta non perché si debba o si voglia mantenere per forza il medico singolo nel suo studio eccetera ma perché quel medico singolo nel suo studio fa tanta parte del suo lavoro e se deve seguire alcune altre cose deve eseguire alcune altre procedure attività cliniche eccetera deve avere la possibilità di utilizzare la casa della salute gli spazi della casa della salute l'organizzazione professionale tra tanti professionisti all'interno della struttura per dare la risposta al paziente non deve invece essere la casa della salute un ospedale territoriale 2.0 in cui di fatto io assumo personale dipendente come le regioni vogliono e hanno cercato e milena gabanelli lo testimonia di fare cioè le regioni che cosa hanno tentato di fare e qui l'emilia romagna ha e l'assessore donini lo ha recentemente anche dichiarato in un confronto pubblico col sottoscritto quindi direttamente io e lui a castelmaggiore e loro aspettano vorrebbero agognano l'idea di avere medici di famiglia dipendenti e queste regioni non comprendono che l'attività territoriale è molto difficilmente gestibile con personale dipendente secondo le regole attuali italiane provate solamente a pensare che a quel punto a ogni medico di famiglia che va a fare una visita gli devi dare l'automobile o i rimborsi chilometrici gli devi dare chiaramente il telefono tutti i fattori di produzione il personale di segreteria gli devi assumere l'infermiere la segretaria devi assumere tutto il contesto come qualunque lavoratore dipendente e ovviamente non c'è più l'autonomia organizzativa ma c'è la direzione da parte del sovraordinato cosa che oggi non c'è quindi ogni medico di famiglia oggi si organizza l'attività professionale e qui casca l'asino cioè le regioni devono aggiornare gli accordi con i medici di famiglia con la medicina generale perché perché vanno adattati ai tempi l'emilia romagna ha un accordo con i medici di famiglia che gestisce contattabilità anzi non la gestisce la contattabilità ma l'organizzazione del lavoro a parte retributiva che è fermo al 2006 allora noi non possiamo in emilia romagna oggi andare a raccontare che la medicina di famiglia non riesce a rispondere alle esigenze quando gli accordi organizzativi sono fermi al 2006 le visite specialistiche sono spesso bloccate il medico di famiglia è l'unico a cui vengono rimbalzati continuamente i pazienti quando ci sono tantissime problematiche organizzative e nelle case della salute spoiler io ci ho fatto un tirocinio da medico poco tempo fa addirittura non sono riuscito per un paziente che visitavo in ambulatorio di medicina di famiglia dove ero in tirocino avevo bisogno di fare un elettrocardiogramma e l'elettrocardiogramma non glielo ho potuto fare perché non c'era nessuno che sapesse dove come e se si poteva usare un elettrocardiografo c'era non c'era boh alla fine l'unica traccia elettrocardiografica che ho potuto dare nel grande sistema di una casa della salute anche importante nel nostro territorio è stato usare il mio apple watch per riuscire a vedere almeno la striscia del ritmo cardiaco prima di chiamare ovviamente a quel punto i mezzi di soccorso allora non è possibile che il nostro sistema sia ridotto in questo modo e spoiler ancora perché sono i dati che sono stati pubblicati vi invito ad andare a leggere appunto l'articolo del corriere per interpretarlo diversamente anche alla luce di quello che vi dico vi faccio vedere queste sono le voci della retribuzione di un libero professionista quindi sapete che il medico di famiglia è un libero professionista in convenzione non è un dipendente del servizio sanitario nazionale ma è convenzionato quindi è un vero e proprio medico del servizio sanitario nazionale ma con un rapporto diciamo diverso parasubordinato bene prende una quota capitaria che mensile vedete per mese per paziente massimale 1500 assistiti che sono troppi per la popolazione anziana che abbiamo quota pro capite 3 euro e 51 che viene aumentata di ben 2 euro e 59 se sei ultra 75enne oppure se sei più piccolo di 14 anni per 1 euro e 57 ora voi non lo so prendete qualunque gestore telefonico l'abbonamento del telefonino no cioè vodafone wind iliad o e cioè tutti gli operatori che volete voi trovate un operatore che vi gestisce per delle tariffe del genere una banale linea telefonica ok mensile noi qui stiamo dicendo che un medico che ha studiato almeno 9 anni perché sono 6 anni di medicina e almeno 3 anni di corso di formazione specifica in medicina generale dovrebbe arrivare a prendere questa tariffa qua ok di 3 euro e 51 a cui vengono ci sono delle voci variabili che le andate a vedere qui vedete le vaccinazioni la sutura cioè se deve cucire pagandosi lui ago filo strumenti sterilizzazione quant'altro viene pagato ben 3 euro e 32 centesimi ok e la medicazione ovviamente la rimozione dei punti per paradosso valgono molto di più ora ovviamente tutto questo comprende anche i costi di gestione gli affitti dell'ambulatorio i costi delle linee telefoniche il fatto che quando vai in vacanza il sostituto deve essere pagato direttamente dal professionista i costi dell'automobile per fare le visite i costi dei materiali di consumo ci sono tutti questi elementi che sono oggi a carico del medico quindi tutte quella narrativa che sono i nababbi sono i paperoni che è stata creata sempre per creare il mostro no del del momento non è vera poi ci sarà qualcuno che effettivamente non è abbastanza disponibile quanto dovrebbe o che rimane estremamente diciamo fisso eligio al numero minimo di ore che deve essere garantito secondo la convenzione perché signori parliamoci chiaro per 3 euro e 51 al mese a patiente io non credo che uno possa essere disponibile 12 ore al giorno tutto il giorno il vostro idraulico lo sarebbe il vostro elettricista lo sarebbe qual è il costo della chiamata di un qualunque professionista e se io sistema sanitario lo volessi assumere quanto in realtà costerebbe allora bisogna fare un po pace con tutte queste cose perché qui si vuole come al solito dare la colpa a qualcuno e avere botte piena e moglie ubriaca non è oggettivamente possibile noi dobbiamo essere come politica molto più concreti e molto più trasparenti e modificare questi accordi laddove non vanno e creare un'alleanza coi professionisti non creare questo tipo di scontro anche perché poi se si pubblicano i dati questi sono no vedete che per 500 pazienti hanno i vecchi convenzionati 5 ore a settimana 10 ore da questo è per i nuovi ingressi scusate questi nuovi ingressi sono i medici che dovrebbero fare praticamente sia i pazienti sia le ore vedete che addirittura un nuovo medico di famiglia che è il motivo per cui nessuno vuole più fare il medico di famiglia dovrebbe fare 38 ore nella casa della comunità fino a 400 pazienti quindi 38 più 5 cioè lavorerebbe più di un dipendente full time avendo di fatto un'organizzazione molto molto similare a quella di un dipendente perché appunto alle 38 ore nella casa della comunità ma avendo anche i pazienti da gestire poi nel suo ambulatorio allora bisogna capire poi la casa della comunità comprende magari le notti festivi comprende tutte queste funzioni qua è ovvio che è insostenibile a questa organizzazione e chiunque si candidi alla regione io vi dico qual è la mia questa roba qua va cambiata va cambiata completamente bisogna rimettere i professionisti in grado di curare i nostri cittadini dandogli un numero di pazienti assistibile dandogli le risorse che servono smettendola di buttare risorse in cemento armato cercare di razionalizzare il cemento armato per quello che serve a servizio della relazione di cura col paziente non in sostituzione della relazione di cura trasformando sistema sanitario in un supermercato dove la persona va e trova davanti il cartello casa della comunità ma poi non ha il contatto umano diretto con la persona di cui si fida perché il problema nella gestione del servizio sanitario è quello e ancora peggio è arrivare a rischiare di vendere la relazione di fiducia nostro servizio sanitario dell'emilia romagna non deve arrivare a creare una condizione nella quale il servizio sanitario e la scelta del medico e quindi la scelta del cittadino nei confronti del professionista sia giocoforza di rifa o di raffa messa sul mercato privato quello non si deve fare perché se io tolgo al cittadino diciamo questa garanzia perché creo delle condizioni di lavoro in cui i medici non vogliono più lavorare nel pubblico e quindi io non posso più scegliere fiduciariamente il mio medico del pubblico alla fine l'unico altro modo che si trova è quello di farlo nel privato tramite una polizza tramite una mutua tramite un sistema alternativo perché il cittadino vuole avere qualcuno di cui si fida chiunque di voi se va dal dottore vuole fidarsi di quel dottore vuole magari continuare a vedere quel dottore magari ne cambia più di uno per trovare quello che gli va bene e allora noi come sistema sanitario uno dei migliori dobbiamo preservare questo perché è un valore non è un problema è un valore e dobbiamo limitare quello che accade con questi scenari dove vedete le ore da garantire per i vecchi che sono già in servizio rimangono quelle e le ore di attività per i nuovi medici che dovranno garantire sia la medicina di famiglia sia la guardia medica sia le notti sia i festivi sia un carico insostenibile che fa sì che poi i cittadini non riescono più a trovare medici che vanno a fare quel lavoro e quindi non possono più trovare un provider di cui si fidano e quindi alla fine tutti questi medici vadano a spostarsi gioco forza sul privato perché nel pubblico non trovano condizioni di lavoro decenti ok quindi stiamo attenti a capire cosa è causa e cosa è conseguenza cioè noi non abbiamo abbastanza medici per colpa solo della programmazione o perché la programmazione è stata colpevolmente vista da un punto di vista politico ideologico per far scappare il personale sanitario questa è la vera questione e noi dobbiamo revertire questo processo io mi impegno a fare tutto quello che è possibile nel caso dovessi avere ovviamente il mandato per revertire questa situazione per rimettere tutti i professionisti medici infermieri eccetera nelle condizioni di fare bene il loro lavoro modificando le regole aggiornandole quando non vanno bene ma evitando di fargli cadere in testa una roba che non vogliono o che vuole magari solo una piccola minoranza perché anche questo c'è garantendo la sostenibilità del sistema che così purtroppo non è garantita a scapito dei cittadini per colpa di una certa politica che vorrebbe imporre determinati modelli che non sono condivisi appunto dai professionisti che li devono erogare ok chi ne fa le spese è comunque il cittadino chi ne è responsabile è comunque la politica grazie e seguitemi per gli ulteriori